...una ripresa... ...ecco la picchia! ...ecco la picchia! ...ecco la picchia! ...calma, calma! ...ecco tu, sotto alba, eh! ...e su picchia, e su picchia! ...ecco la mia invitata l'arbitro Nonani sul ring, per valutare le condizioni del Fugile. ...ecco la mia invitata l'arbitro Donali sul ring, per valutare le condizioni del Fugile. La serata è super visionata dalla croce rossa di Adria, qui alle spalle del tavolo della giuria. Il medico si può continuare, quindi il match riprende. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Allora